Le hanno chiamate Centaurus, Chiron, Cerberus e tante altre purtroppo arriveranno nei prossimi mesi ed anni. Sono i nomi delle nuove sottovarianti della variante Omicron che stanno lentamente imponendosi. Dalla loro diffusione dipenderà l'andamento della pandemia nell'immediato futuro. Il virus sta cercando di sopravvivere e continuare la sua opera, quella di moltiplicarsi e quindi di provare delle varianti che se hanno come le Omicron, come Centaurus, come Chiron, queste ulteriori e ulteriori varianti, delle caratteristiche favorenti dal punto di vista evolutivo possono e penso che in questo caso prenderanno piede e diventeranno dominanti. Le mascherine abbassate nelle scuole, sui mezzi pubblici e nei luoghi affollati favoriscono la diffusione del virus e le sottovarianti che stanno esaurendo la loro capacità di contagio vengono sostituite da altre con conseguenze tutte da scoprire. Abbiamo dei farmaci antivirali per curare le forme pericolose nei soggetti a rischio e soprattutto l'opportunità, la necessità di richiami vaccinali che ad oggi suggeriamo a distanza di 4-6 mesi dall'ultima dose effettuata o dalla guarigione dal virus ma che poi nel prossimo futuro io credo saranno pianificati un po' come la vaccinazione antinfluenzale. Non è quindi il momento di abbassare la guardia. I nuovi casi positivi sono diminuiti del 13% rispetto alla settimana precedente ma solo nei prossimi giorni si capirà se la tendenza è confermata.